Caro Papa Francesco, sono proprio contenta di essere qui a casa tua, con gli amici del Gemelli, i medici, i volontari, e con i sacerdoti che ci accompagnano all'Urdes, con l'Unitalsi. E' bello poterti vedere davvero, e non come alla televisione, all'Urdes. Abbiamo pregato per te, ti abbiamo disegnato la grotta come nostro dono, ti promettiamo che pregheremo ancora, e ti chiediamo di pregare per tutti i bambini malati del Gemelli e del mondo. Benedici tutte le mamme e i papà, perché possono avere sempre un sorriso bello come il tuo. Cosa fa Gesù quando trova un bambino che piange? Cosa fa? Si ferma. Gesù si ferma. Perché? Perché i bambini sono quelli che Gesù ama di più. Così è Gesù. E Gesù è vicino a tutti noi oggi, a tutti voi che siete venuti qui. Davvero? Gesù è qui? Con noi? Gesù è qui con noi? E Gesù ci vuole bene? A tutti? Sempre. Gesù ci vuole bene. A tutti. Perché è vicino a noi e cammina con noi nella vita. Quando siamo felici, quando abbiamo problemi, ma sempre Gesù è vicino a noi.